Le piccole promesse del Lokomotiv Mosca, una delle squadre di calcio russe più blasonate, stanno trascorrendo a star un periodo di allenamento e di vacanza. Le piccole promesse del Lokomotiv Mosca, una delle squadre di calcio russe più blasonate, è la cosa per il giro di calcio russe. Grazie a tutti è l'opero 2005 è l'opero 2005 è l'opero 2005